Il maestro Edda Silvestri Buonasera, sarò brevissima perché è stato detto tutto benissimo dal Assessore Croppe e dal Senatore Garavaglia Io ricordo ancora tre anni fa quando l'11 di agosto, esattamente la data perché è il compleanno di mia figlia e sono andata all'appuntamento con Maria Grazia Virzi per parlare di questo premio, siamo stati entusiasti perché gli studenti vanno premiati essere musicisti oggi è ancora più difficile perché richiede un sacrificio tra virgolette perché ci sono tante distrazioni, tanti divertimenti e fare il musicista significa stare giorni e giorni chiusi, ore e ore in una stanza a studiare Io ringrazio tutti i maestri, tutti i docenti di questo conservatorio perché ovviamente si crea un rapporto filiare perché si prende un ragazzino piccolo e si porta avanti, si cresce quindi si sa tutto della vita del proprio studente quindi è un po' una missione e tutto quello che loro fanno lo fanno veramente con grande passione perché non c'è un paragone rispetto a quello che è il loro lavoro a uguale rimborso economico o quello che guadagna purtroppo oggi un docente di conservatorio queste cose bisogna sapere perché si entra ancora di più in profondità nel capire che tutti i docenti, gli insegnanti dei conservatori io parlo dei nostri insegnanti di Roma che si dedicano con grande passione quindi questi studenti sono un po' come dei figli e vedere cinque giovanissimi che stasera premiamo che sono dell'87 quindi 21 anni hanno dedicato giorni e giorni e hanno preso un diploma con dieci e lode dobbiamo incoraggiarli io so di essere sostenuta perché molti politici e persone di cultura impegnati per il conservatorio di Santa Cecilia hanno fatto delle promesse sono sicura che le manterranno perché vale la pena per i nostri giovani dare un futuro perché come diceva il senatore Garavaia la cultura va sostenuta e noi dobbiamo fare questo io vi ringrazio e do la parola, la voce, i suoni ai nostri studenti che ci diranno attraverso i suoni, ci esprimeranno attraverso i suoni il loro mondo interiore grazie i cinque studenti premiati sono Stefania Bentivoglio, Sassofono Maria Rosaria Convertino, Fisarmonica Monica Ferracuti, Pianoforte a Monica Ferracuti va anche un premio speciale perché grazie alla collaborazione dell'associazione di Via Vittoria con il governo giapponese, con l'ambasciata giapponese a Roma andrà un mese a Tokyo all'università Toho Ongaku Gakuen altri due premiati Jung Sung Mi soprano e Vera Pereslazeva di Santo Pianoforte buon ascolto Scusate, volevo ringraziare l'UNESCO è sfuggito non siamo bravi a organizzare queste cose siamo più bravi a essere musicisti e poi mi è stato detto che il maestro Uto Ugi può rispondere se ci sono degli studenti che vogliono fare delle domande lui può rispondere grazie Scusate, volevo ringraziare l'unico grazie a tutti 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 grazie a tutti